Stato quotidiano con Nicola Del Vecchio, motociclista di disappomita a 14 anni, 15 anni a gennaio, quest'anno iscritto nell'Ornet Cup Honda 600, prima esperienza, una forma di iniziazione per provare i circuiti nazionali, dato che siamo piloti di tutta Italia che ne fanno parte. Nicola, partiamo proprio da te. Parloci verso la spesa. Mi chiamo Nicola Del Vecchio, sono pilota dell'Ornet Cup e corro con lo team band di racing. Ho iniziato dall'età di 7 anni, sono 7 anni che corro, ho iniziato con la mini-mute e poi sono passato con la mini-GP, di cilindrata 100, e ora finalmente sono arrivato con la cilindrata 600, che io non mi aspettavo di farla, e all'inizio i risultati sono stati un po' scadenti. Poi dopo la prima gara sono migliorati fino ad arrivare nelle prime 5 posizioni. Allora, quest'anno c'è la venti racing che ti richiama nella fine 2010, quindi comincia a provare i circuiti. Partiamo alla Valle Lunga, 18esimo su 27esimo, 1,52 e 0,5. Il 3 aprile questa gara è 10 giri per 4,2 km. Come è andata a Valle Lunga? Nella prima gara è stata un po' in difficoltà in primo anno. Come al solito ho sbagliato la partenza, poi ho recuperato fino ad arrivare a 18esimo e togliendo 3 di un'altra categoria sono arrivato a 15esimo, ho ottenuto un punto. Poi a Misan Adriatico, c'è il scudo di Santa Monica, il 15 maggio, anche qui 10 giri per 4,2 km, già un tempo migliore a 1,4 km. Sì, a Misan, ho partito all'ora nel qualifico, sono andato molto bene, poi partivo ottavo, poi la domenica pioveva, era pista bagnata e io non avevo mai avuto esperienze sul bagnato. Però sono partito e mi sono steso nel giro di ricordizione, mi sono rialzato, sono ripartito e ho concluso la gara a 10. E infine il ritorno a Vallelunga, questa volta va molto meglio, perché forse il circuito già lo conoscevi rispetto alla prima volta, poi position per 5 giri, parti in terza posizione, sbagli la partenza, ma fai il 1,46 volte, quindi migliori di tanto il primo tempo dell'altra prova. Sì, poi la terza gara, cioè l'ultima che ho effettuato, partivo alla gola per position fino a 3 giri dalla fine, poi un siciliano molto forte ha cambiato la gomma durante le qualifiche, ho ottenuto un decimo più veloce dal mio e mi ha ottenuto una buona posizione, però mi sono accontentato dalla terza posizione e poi partivo terzo e ho sbagliato la partenza e poi ho rimontato fino alla quinta posizione. Adesso quali sono le prossime gara che ti attendono? La tenda a Mugello e poi Franciacorta. E quindi quando desideriamo queste gare? Il Mugello va il 7 agosto e Franciacorta il 4 settembre, l'ultimo. Va bene, adesso invece passiamo al... prima di ripassare al futuro, ma non hai paura quando vai, quando provi? No, paura no, però ho un po' aperto il problema di cadere. Allora, prima di passare al futuro di Nicola, ma andando sulle motociclette comunque, questa velocità, non si ha paura di cadere, i farsi del mare? Beh, la prima volta ti sembra un po' la paura della velocità ti spaventa, poi ti ci abitui dopo un paio di giri, ti mando tutto per mare. Ci sono mai stati delle cadute importanti che hai avuto? Mi sono affatturato tre volte, due volte il pollice, una volta la granica. Va bene, noi già adesso poi ritorniamo al futuro. Noi ricordiamo che Nicola è supportato dal team Benti Resi, invece ci sono anche delle ditte locali di Zapponita che stanno sostenendo i ragazzi, fra i quali la ditta di costruzioni calamite. Naturalmente per la tua attività, affinché possa crescere, c'è sempre necessità naturalmente una forma di sostegno, una classe imprenditoriale di Zapponita per il tuo futuro. Sì, allora quest'anno abbiamo avuto qualche sponsor di Zapponita, tra cui ringrazio le costruzioni della vita, che ci sta aiutando per tutto l'anno, fino alla prima gara. E spero di trovare sponsor, perché in questo sport ci vuole tanto denaro per continuare. Penso che fino adesso ti sia stato sostenuto comunque, cioè c'è possibilità a Zapponita, comunque diciamo, di avere un centro piccolo, capitanata. A Zapponita, essendo un paesino, tutti mi sostengono e io spero che continui così. Va bene, ma ci sono per te le possibilità di crescita nel capitanato, come sei costretto ad andare lì, magari a emigrare per poter continuare nella tua attività? Secondo me, stando in Italia, si può ancora arrivare più avanti. Va bene, allora ringraziando Nicola Del Vecchio, il team Benti Racing, iscritto quest'anno a Hornet Cup Honda 600, buonasera alle azioni di Stato, grazie. Grazie a tutti.